Il processo con Cartel è molto semplice. Mi piace questi ragazzi di tre generazioni. Non abbiamo bisogno di parlare, di comprensere. Quando lavori per un'azienda come Cartel, l'innovazione è nel DNA, la qualità è nel DNA e anche lo stile. Lo stand del 2018 di Cartel è certamente uno stand molto diverso da quelli che abbiamo visto fino ad oggi. Io ho pensato che appunto questo mondo che sta diventando sempre più smart dal telefono a quant'altro, forse non avesse bisogno di un supporto decorativo per essere raccontato, ma forse doveva essere il più semplice possibile. Cartel, per me, è una delle società rarmi che esistono in questo paese, che stanno facendo cose, tanto in modo antico e anche in modo nuova tecnologia. Un progetto o innova, un progetto o migliora, oppure è meglio che non sia fatto. C'è un progetto o innova, un progetto o migliora, oppure è meglio che non sia fatto. Io ero sicuramente attrazione a Cartel. Smart significa arrivare al momento giusto con la risposta giusta e significa saper cogliere l'attimo. Smart design è un modo vitale ed economico di andare avanti in un mondo come oggi. Il louco è un progetto, ed è un progetto o�, Grazie.